si aprono le gabbie partite le cavalle della quinta corsa la più veloce a partire come da copione lady lilly che si porta subito al comando inseguita in questa fase da clandestina l'importata al suo esterno gravita piccola e la quarta posizione per la favorita soul of race che lascia in quinta flash royale poi ancora la debuttante piccola miss a precedere happy starlight alessia jet ed ancora kafla e tutto il resto del gruppo chiuso da notte stellata primo parziale è stato piuttosto brillante adesso sta gestendo lady lilly comunque davanti nei confronti di clandestina in terza posizione al suo interno troviamo soul of race in quarta troviamo invece piccola ela a precedere anche alessia jet flash royale piccola miss poi in coda tutti cleo griff kafla happy starlight e via via le altre con i cavalli che sono in dirittura d'arrivo ancora in leggero vantaggio troviamo a questo punto clandestina nei confronti lady lilly che cerca di rimanere in quota all'esterno i tutti si avvicinano minacciose tanto piccola ela quanto la debuttante piccola miss la favorita soul of race invece vitale in corda con piccola miss che è passata netta in vantaggio quando mancano 200 metri d'altra guarda e la debuttante che sta facendo la sorpresa piccola miss che deve solo controllare perché è netta facile limpida in vantaggio vince piccola miss per il secondo posto clandestina e al terzo solo of race la favorita la qualità del resto parlava chiaro anche se era una debuttante poco esposta vince piccola miss con giuseppe ercegovici in selle il training è quello di luciano bietolini colori fabrizio lazzoni 11 al primo posto 3 clandestina al secondo 12 solo of race al terzo numericamente quindi 11 3 12 per piccola miss si tratta di un esordio veramente interessante la quota era di 6 e questo è quanto per la maiden risolta dalla debuttante piccola miss su clandestina che corre bene e per il terzo abbiamo detto la favorita solo of race è tutto per la quinta grazie a tutti